La grande maggioranza della gente di tutte le età e di tutte le categorie è pronta a difendere, a tutelare questa filiera meccanica che ha sempre dato qualità alla nostra città. Proprio perché la città sta dimostrando la vicinanza ai lavoratori della Varsila che rischiano il licenziamento, ragiona Monsignor Ettore Malnati, vicario episcopale, è necessario che la manifestazione di domani pomeriggio sia assolutamente apolitica ed apartitica. Ovviamente dovrebbe essere, speriamo che lo sia, una manifestazione che tiene conto della situazione e ne dice la squalificazione di certi atteggiamenti, ma anche nella legalità. Quindi sarebbe molto opportuno in questo momento, che c'è appunto anche il problema della propaganda elettorale, che sia una manifestazione civica e non tanto partitica. Monsignor Malnati, che non nasconde una certa preoccupazione anche a seguito di discutibili chiamate alle armi, è tuttavia fiducioso. I sindacati stanno lavorando in tal senso e penso che ogni cittadino e soprattutto le persone che hanno una certa incisività anche dal punto di vista dei media, possano aiutare in tal senso. Manifestiamo come cittadini, come persone che sentono il senso della responsabilità, che senza un lavoro giustamente retribuito ne va di mezzo la dignità della persona e la sicurezza delle nostre famiglie. C'è in ogni caso, sottolinea Monsignor Malnati, la consapevolezza dell'importanza della posto in gioco sotto certi aspetti vitale, e cioè di conforto anche in seguito alle mosse in sede romana. Ho parlato con le istituzioni, ho parlato con i parlamentari, ho parlato con la mia gente, i miei giovani, la gente è veramente molto preoccupata e attende proprio dal governo un'attenzione concreta. La decisione concreta è che il ministro Giorgetti abbia ascoltato i nostri suggerimenti di volere nuovamente un tavolo con i finlandesi per vedere se si può ovviare a questi 450 licenziamenti.